Niente di nuovo perché le diocesi della Liguria, come tutte le diocesi italiane, da molto tempo offrono la loro collaborazione cordiale per i problemi del paese, per i problemi della gente. Questa è un'emergenza gravissima, perdurante, la mobilità è globale nel mondo, quindi è un problema che non riguarda soltanto Genova o la Liguria e neppure riguarda soltanto il paese. Ma riguarda l'intera Europa, non solo, ma anche la comunità cosiddetta internazionale che non può girarsi dall'altra parte pensando che non sono problemi propri. Ripeto, le migrazioni sono mondiali.